Troppa pace, troppo silenzio per l'ispettore Marzio Santoni, detto lupo bianco. Oh, il falco trogolo, porta disgrazia, è il segnale di Satana. Ci sono troppi indizi, o sono troppo pochi? Lupo bianco indaga, profanazione, audaci travestimenti, sesso estremo, depravazione. Chi è il cartomante? È l'appeso? Dall'autore Franco Matteucci, un'altra indagine dell'ispettore Santoni, detto il lupo bianco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.